E' una lunga fuga 4 a caratterizzare la Gran Fondo Città di Fiuggi, Valerio Agnoli, pre-neste 2016. Ad uscire allo scoperto, dopo appena 20 km di corsa, sono Marco Sivo e Roberto Cesaro del Pedale Bellonese, Federico Colone della Saci e Bonacicli e Bruno Chiocca della Bike Daniello. I quattro proseguono di buon accordo per oltre 80 km fino a disputarsi l'arrivo in volata nel centro di Fiuggi. Ed è una volata di autorità quella di Roberto Cesaro che trionfa di fronte a Federico Colone, Marco Sivo e Bruno Chiocca, dopo due ore e 48 minuti di corsa. Roberto, un'altra vittoria, una vittoria che innanzitutto è una vittoria di squadra. Sì, oggi ho avuto in Sivo un grandissimo compagno di squadra che ha fatto un lavoro eccezionale oggi. Io in volata ero molto fiducioso, infatti non mi sono sprecato più di tanto a tirare proprio perché avevo Sivo che si è visto tutto lui. È un bel momento per noi, siamo un gruppo di amici e questa è la prima cosa. Infatti i risultati si vedono e lo ringrazio infinitamente. Insomma, vincere davanti a Valerio Agnoli e Vincenzo Nibali al suo fascino. Io con Valerio abbiamo corso insieme nelle giovanili, è sempre stato fortissimo, infatti ricevere anche i complimenti da lui è un onore per me. Vi faccio i complimenti perché ha fatto un percorso stupendo, duro, molto come scenario bellissimo e veramente una bellissima gran fondo. Grazie. Grazie a tutti.